Enzo Willia, 365 giorni dopo, il primo anno della sua amministrazione, CESA è ripartita? Non spetta a me dire se CESA è ripartita o meno, però credo che abbiamo messo in campo tanti di quei provvedimenti, abbiamo affrontato tanti di quei problemi che credo che sia sotto gli occhi di tutti la spinta che abbiamo dato a questo Paese. C'è un fermento, un fermento culturale delle associazioni, ci sono cose positiva, addirittura imprenditori che sono convinti di investire su questo territorio. Quindi quello che era l'obiettivo nell'immediato, cioè di dare una nuova stagione a questa città, in un certo ugual modo ha avuto un suo riscontro pratico. In questo anno i rapporti con le due forze di opposizione sono andati a fase alterni. Come giudica il rapporto soprattutto sia politico che amministrativo con le forze di minoranza? Io dico che il mio appello iniziale è stato quello di una collaborazione, perché questo Paese per poter raggiungere traguardi importanti ha bisogno dell'aiuto, della collaborazione di tutti e certamente non solo della maggioranza. Devo dire che al dispetto di quelle che sono le argomentazioni che talvolta escono sui giornali e che sono frutto di comunicati stampa, poi nel lavoro d'aula in Consiglio Comunale abbiamo una differenza, nel senso che io ho fatto una piccola statistica partendo proprio da uno degli ultimi Consigli Comunali dove le opposizioni hanno votato circa il 70% dei punti all'ordine del giorno, tant'è che sentì il dovere di ringraziare le forze di opposizione per il lavoro che stavano svolgendo. Quindi credo che al di là di quello che è il gioco delle parti legittimo, le opposizioni stanno contribuendo anche loro a dare una mano sotto il profilo della collaborazione. E' chiaro che ci sono stati dei momenti in cui di maggiore frizione, di maggiore contrasto ma credo che nel complesso il rapporto con le forze di opposizione è un rapporto costruttivo. Tanti provvedimenti diciamo che sono stati approvati, qual è stato il settore che ha fatto più passi in avanti? Ma io devo dire che abbiamo trovato una situazione per certi versi drammatica. Io ricordo il primo giorno del nostro insediamento all'ingresso negli uffici riscontrammo che mancava ad esempio il responsabile dell'ufficio ragioneria e quindi siamo dovuti intervenire in questo settore delicatissimo, peraltro in un momento di innovazione legislativa che ha interessato gli enti locali. Ci sono stati una serie di altri problemi che riguardano il passato e che stiamo cercando di affrontare. Situazioni che sono emerse. Faccio riferimento ad esempio alla nota vicenda del Palazzo dei Terremotati dove stiamo ritornando sull'argomento per cercare una soluzione condivisa anche con gli occupanti. Abbiamo riscontrato problematiche legate ad esempio al cemitero comunale dove penso che nel prossimo Consiglio comunale porteremo all'attenzione dell'Aula una transazione per cercare di evitare un contenzioso con la ditta che ha gestito la fase della locazione e concessione dei loculi. Molte cose che appunto sono avvenute nel passato sono riemerse come ad esempio la strada ritrovata, cioè una strada che ebbe ad essere espropriata dal Comune verso la fine degli anni Ottanta e completamente scomparsa e che noi stiamo cercando di riportare alla luce, in parte già l'abbiamo fatta. Tanto per citare un esempio, noi abbiamo ancora in corso l'attività della Commissione straordinaria di liquidazione, cioè quando agli inizi degli anni Novanta ci fu la dichiarazione di dissesso finanziario dell'ente, quella Commissione ancora deve completare il lavoro. Questo per dire che ci sono una serie di problemi vecchi che stiamo cercando di gestire, ma al tempo stesso abbiamo messo in campo, credo, nuove prospettive. Non ultimo all'acquisizione del patrimonio comunale dell'area denominata Campo del Parroco, il lavoro che stiamo cercando di portare avanti alla ricerca di finanziamenti per la completa ristrutturazione della palestra del Fanciullo, le numerose istanze effettuate alla Regione Campania per avere finanziamenti in materia di servizi sociali e di contrasto alla povertà, nonché le varie somme che la Regione Campania ha messo a disposizione per i disoccupati, per far lavorare le persone che avversino una situazione di disagio. Nel complesso io credo che nonostante le difficoltà tante, nonostante i problemi tanti, io credo che siamo riusciti a dare alla città più servizi e siamo riusciti anche a ridurre le tasse. Cesa, in questo anno è assurdo anche gli onori delle cronache, soprattutto quelle culturali, per una serie di eventi che non si vedevano da tempo nel comprensore atellano. Credo che questo sia il frutto di una programmazione politica e sia il frutto di un lavoro di squadra. Noi siamo partiti dall'idea che questo paese dovesse ritornare a vivere e ci stiamo riuscendo. Già da qualche settimana, ad esempio, sono riprese le tantissime attività. C'è stato uno straordinario successo del Festival della Sprinium, iniziativa della Proloco, che ha visto il sostegno dell'amministrazione comunale. Ripeto, è un nostro obiettivo, ma è un lavoro di squadra. E quindi è chiaro che tutto quello che avviene è frutto della collaborazione. A partire dal Vice Sindaco Luigi Neangelis, che è molto attento a quelli che sono i problemi della manutenzione, della viabilità e delle tante piccole opere che abbiamo realizzato durante questo anno. Così come abbiamo dimostrato un'attenzione particolare per le scuole cittadine e per la cultura, con il lavoro prezioso svolto dall'assessore Antimo dell'Uomo, in materia di bilancio, di trasparenza, di tasse, c'è l'assessore Filomena Di Santo che ha messo in campo la sua grande competenza in materia e ci ha consentito questo di, da un lato, tenere sotto controllo i conti per fare in modo che ci sia un concreto risanamento. Tanto è vero che nel 2015 il Comune ha rispettato il patto di stabilità, ma al tempo stesso di iniziare ad introdurre degli sgravi per le persone più disagiate. Ricordo che abbiamo eliminato l'addizionale comunale ILPEF per le fasce di reddito da 0 a 15 mila euro, abbiamo ridotto la tasse dei rifiuti lo scorso anno di circa il 9%. Per non parlare di quello che è il lavoro fatto in materia di servizi sociali. Riprenderemo il trasporto dei disabili, abbiamo già da questo anno scolastico ripresa l'attività di assistenza materiale agli alunni disabili, una serie di servizi che riguardano l'universo delle politiche sociali grazie al prezioso e competente lavoro dell'assessore Guarino. E poi ci sono i consiglieri comunali che attraverso l'esercizio delle proprie deleghe comunque stanno contribuendo a questi risultati. Abbiamo inaugurato la biblioteca agli inizi di gennaio grazie al lavoro del Presidente del Consiglio Comunale che è anche la delega agli eventi, Erika Alma, che sta approfondendo un grande lavoro sotto questo aspetto. Protezione civile, abbiamo ricostruito il nucleo di protezione civile che è cresciuto grazie al lavoro del Consigliere Comunale delegato Alfonso Marrandino. Abbiamo approvato il piano, tra poco inaugureremo anche il centro operativo della protezione civile. E in materia di sanità, grazie al lavoro del Consigliere Comunale Domenico Mangiacapra, ci sono tanti piccoli servizi che riusciamo a garantire alla nostra utenza. E poi in ultimo voglio ricordare il lavoro del capogruppo Antonio Esposito che oltre ad essere un po' grazie alla sua caparbietà e alle sue capacità, oltre ad essere un po' il collante di tutta la maggioranza, ha anche la delega agli anziani e al cimitero e noi siamo riusciti per effetto di questo lavoro a dare una sede nella palestra del fanciullo agli anziani, dove quelle stanze sono anche la sede della consulta degli anziani e dei disabili. Quindi grande attenzione verso tutti i vari aspetti di una vita amministrativa, attenzione anche ai dettagli, alle piccole cose, ma anche una progettualità che guarda al futuro. Prima di concludere questa intervista allarghiamo un po' il campo all'aspetto politico e soprattutto al suo futuro politico personale. La prossima scadenza naturale dovrebbe essere quella del 2020 per il rinnovo del Consiglio Comunale di Cesa, ma il 2018 c'è il rinnovo del Parlamento. È inutile nascondere, Guida, lei è un po' l'astro nascente del PD, soprattutto nell'agro Aversano. C'è qualcosa in vista per il 2018? Io penso a lavorare da sindaco perché questo Paese ha bisogno di un lavoro costante e quotidiano, quello che ci stiamo mettendo. Certamente non penso ad altro. È chiaro, sono consapevole del fatto che per vicende provinciali, per vicende territoriali, il Partito Democratico a cui aderisco, di cui faccio parte, avendo svolto anche dei ruoli sia nella segreteria provinciale, sia con Villano che ultimamente, vive una fase di difficoltà, così come sui vari territori ci sono tantissime difficoltà. La mia ambizione è di fare il sindaco e di farlo bene e riuscire a raggiungere gli obiettivi che ci siamo dati. Al tempo stesso sono un uomo di partito. Se il partito dovesse chiedermi un sacrificio, chiaramente non dovrò valutare e capire se posso essere disponibile anche per altre cose.